Meno mario, ma quando ci vuole, va? Meno mario, ma quando ci vuole, va? Meno mario, ma... Amore? Sì? Eh, ti andando a prendere questo per il bambino? Com'è? Trovate un'amica mia, ha detto sempre, compri queste pillole che si chiamano Viagra, che per tuo marito faranno benissimo. Viagra che serve? Dice che con queste pillole ha letto due, tre, quattro volte. Ah, ho capito, questo è un calmante. E va bene, va bene, se ti fa piacere lo freddo. Poi non ti lamentare, eh? Quando lo facciamo sempre, otto, va bene.